Eccoci rientrati in studio, ci siamo lasciati parlando dell'ex manifattura tabacchi. Quello che vogliamo fare oggi è riaprire il dialogo su questa bellissima struttura per capire anche con il vostro aiuto che cosa vi piacerebbe vederci dentro. Certo adesso c'è un mercato, forse sarebbe il caso di ottimizzare gli spazi, lasciare quel mercato in un'ala dell'ex manifattura e utilizzare il resto per altri scopi. Una signora poco fa ha chiamato e ha chiesto nuovi alloggi popolari. Lei, consigliere Ranieri, cosa ne pensa? Io ritengo che quella struttura non possa assolutamente poter essere una sede allocativa di alloggi popolari. Tra l'altro si farebbe prima a realizzarli degli alloggi popolari che non a recuperarli in quell'area. Quell'area è un contenitore che dovrebbe essere a servizio dei cittadini e quindi un contenitore per altri tipi di attività, attività ludiche, attività sociali, attività per gli anziani. Per quanto attiene alla realizzazione di immobili di carattere popolare, la signora ha ragione che c'è carenza. Ma guardi signora, è molto più semplice realizzarne di immobili in quartieri dove è più confacente la realizzazione che non recuperarne all'interno della stessa struttura. Quindi quel quartiere comunque ha bisogno di ulteriori strutture che servono a rendere più vivibile ovviamente la vita quotidiana di tutti i residenti. Quindi fermo restando la necessità diciamo di recuperare degli alloggi, quella struttura assolutamente non è idonea per recuperare degli alloggi abitativi. 080 501 9998 il numero per intervenire in diretta. Spazi per i ragazzi, dicevamo soprattutto al quartiere Libertà dove non ce ne sono moltissimi. C'è il Redentore che è un grandissimo sfogo per i ragazzi del quartiere, però magari ammetterne degli altri non farebbe male. No ma perché tutta questa importanza sulla manifattura? Perché poi qualcuno mi accusa diciamo a volte tu... È un po' il simbolo diciamo della Libertà. Ma non solo il simbolo, in un quartiere come dicevamo nel servizio, compatto, dove non ci sono spazi fisici, non è il San Paolo, non è Iapigia, dove andando diciamo a riempire degli spazi fisici degradati si riesce a creare diciamo una connessione tra corpi abitativi. Il quartiere Libertà è già compatto, quindi o si ragiona in termini di riuso e di riutilizzo di strutture esistenti, oppure non si riesce a creare diciamo quell'effetto domino, quell'onda di riqualificazione che interesserebbe tutto il quartiere. Poi guardate che i fenomeni della devianza minorile, della dispersione scolastica, del disagio sociale, da un lato anche i fenomeni criminali, da un lato si combattono con un'azione di repressione, con il controllo, con la presenza delle forze dell'ordine eccetera, ma dall'altro si arginano provando a dare delle occasioni alternative nella vita di quei bambini. Se loro non intravedono la possibilità che c'è un modello di vita diverso di quello che hanno diciamo davanti agli occhi, e non cambieranno mai, non avranno mai diciamo appunto un modello alternativo da poter seguire. Allora l'idea di riutilizzare la manifattura per ospitare delle imprese artigiane, per ospitare dei luoghi dove si prova a produrre, guardate l'Accademia del Cinema di Enziteto, che cos'è se non una bellissima idea, una bellissima cosa che è stata fatta fiorire in un quartiere difficile? E quello ora diventa una delle realtà più importanti, non solo della nostra città ma di tutto il territorio. Certo è diventato un fior all'occhiello. Ci sono tanti tecnici che hanno imparato lì il loro mestiere legato al cinema, legato agli operatori, e allora ragioniamo se questo è possibile farlo anche lì dentro all'interno della manifattura. È chiaro che lì non andrebbe fatto con risorse dell'amministrazione comunale, perché non abbiamo grandi risorse da poter investire. Però quello è un appello all'Associazione dei Costruttori, all'ANCE, che è così premurosa di mandarci in aula il giorno in cui dobbiamo discutere l'aumento degli oneri di urbanizzazione, il nuovo regolamento di inizio, ci manda una lettera che è stata anche di cattivo gusto, in cui ci chiede il ritiro della delibera, quando di quella cosa se ne discute da mesi. Cosa che poi è stata effettivamente fatta. E ahimè ieri purtroppo l'assessore Sanicandro ha ritirato la delibera del regolamento di inizio, ma avrà le sue motivazioni, sono convinto che quel regolamento di inizio ritornerà presto, spero, in aula e che verrà approvato, perché quello va a regolamentare anche un po' il mondo dell'edilizia in questa città. Ma dicevo, un appello ai costruttori, decidete di investire nel riuso, nel riutilizzo delle strutture esistenti e non costruire nuovi pezzi della città. La frontiera è il riutilizzo, non è la nuova edificazione. Consigliere Ranieri, anche lei è del quartiere Libertà, se non ricordo male, quindi ha vissuto questo quartiere. Ecco, cosa significa per una persona di questo quartiere l'ex manifattura? Abbiamo detto è un simbolo, quindi riportarla in auge cosa significherebbe? Prima però della sua risposta prendiamo una telefonata. Pronto? Sono sempre io, siccome il consigliere del PD ha detto di abitare in Viettelente Casale, in Viettelente Casale ci abito anch'io, e precisamente di fronte a Bellizzi, e ci siamo capiti. Probabilmente vi conoscete. Quindi, molto probabilmente, forse adesso facendo vende locale può darsi che ci siamo... Vado in giro in bicicletta, io vado in giro in bicicletta e porto dietro, diciamo, il seggiolino per mio figlio, che accompagna a scuola, quindi mi riconosce. Una vecchia bicicletta arrugginita perché la lascio per strada. Guarda, io le faccio una domanda. All'ingresso della vecchia manifattura... Sì, quello carrabile? È quello carrabile, va bene? Sulla parte destra c'è la vecchia arena. Perfetto. Quello è uno sconcio. Sono d'accordo con te. Ma è possibile che non si riesce a trovare un sistema? Possibile che non si riesce ad avere una vigilanza vera e propria? Perché ogni giorno ci sono degli scippi all'interno di quei locali? Ma è possibile? Anche questo vi costa fatica. Non lo so, non credo che avete bisogno di soldi, almeno per far controllare con un paio di vigili il mercato. Non credo che questa costa. C'è quell'altra parte che lei mi dice che appartiene all'università. Ma mi risulta pure che ormai l'università si è completamente disinteressata di quella parte. Abbiamo il problema del tribunale di Via Nazariante. Potevamo anche ospitare qualcosa. Non dimentichi che al primo piano dell'ingresso della maniera abbiamo avuto un'aula bunker. Ce le siamo scordati queste cose. Quando io guardo quella struttura, che è un'opera costruita un secolo fa, io ho 88 anni, mia madre ha lavorato in quella struttura. Lì c'è tutto un mio ricordo, c'è tutto la mia infanzia, ci sono tante cose. Ma è possibile? A me quello che dispiace, va bene, voi della sinistra, che discutete sempre. Fate progetti ma non realizzate mai niente. E non vi pare che questa mancanza di idee, di realizzazione, poi vi è costato anche, va bene, la sconfitta alle ultime elezioni? Grazie, grazie per il suo intervento, consigliere Petruzzelli. Sì, ho qualche minuto per rispondere a tutto. Beh certo. Allora, l'area dell'ex arena giardino del cinema all'aperto che c'era lì, ahimè, è di proprietà comunale. L'amministrazione comunale ha provato in più di una circostanza ad acquistare quell'area dai privati che hanno la proprietà e non sono mai riusciti a trovare un accordo. Devo dirle che probabilmente l'amministrazione comunale, almeno sia un po' di tempo fa, voleva allargare il parcheggio a disposizione della manifattura dei tabacchi. Io spero che lì magari un giorno rinasca un cinema e che i miei figli crescendo possano decidere di andare lì al cinema. L'università, è vero che l'università per un periodo ha per due volte provato a mettere a bando delle risorse ministeriali per riqualificare e bonificare quell'area della manifattura dei tabacchi. E per due volte c'è stato, diciamo, dei ricorsi al TAR, delle ditte escluse e i concorsi sono stati annullati. Però l'università mi risulta, e ne ho parlato un po' di tempo fa con il rettore, che ha raggiunto l'idea di riqualificarla e di farli uno student center e degli alloggi per studenti universitari. Quindi sembra che qualcosa lì si stia muovendo. L'ultima cosa, il tribunale. È chiaro, una delle idee, come ad esempio avviene, vi dicevo, al manifattore dei tabacchi di Venezia, è prendere tutti gli uffici comunali della città, non solo il penale che ha citato lei di fronte al cimitero, ma i giudici di pace che sta al San Paolo e allocarli all'interno della manifattura dei tabacchi. Questo può essere un'idea, solo che lei sa che sul tribunale c'è un commissario ad acta del Consiglio di Stato che sta portando avanti un progetto per la cittadella della giustizia da realizzare dalle parti dello stadio San Nicola. Allora, al di là che sia giusto o meno la realizzazione della cittadella della giustizia, di fatto questo vieta l'amministrazione comunale di poter intervenire nello spostare il tribunale, almeno per un po'. Manca se fosse, insomma, non dimentichiamo il problema parcheggi che si porrebbe. Però su questo, sono i parcheggi che devono decidere come e quanto riqualificare un'area? O non è il meccanismo inverso? Alle spalle della manifattura dei tabacchi, oltre Corso Italia, come sa bene il signore che abita lì, si libereranno da qui a qualche anno degli spazi immensi con la riduzione del fascio dei binari e con l'assetto del nuovo nodo ferroviario. Lì bisognerà discutere su come andare a riqualificare urbanisticamente quell'area e probabilmente può venire fuori l'esigenza di realizzare dei parcheggi a servizio delle infrastrutture che ospiterà il quartiere Libertà. Prendiamo una telefonata, pronto? Ciao, sono Luciano, buonasera. Buonasera. Buonasera, sono un vedente che chiama sempre per protestare. Io, consigliere, vuoi dire una cosa? Io sto un po' in lotta perché sto facendo una battaglia per avere le pedane sul Cotrab che collega Santo Spirito Bitonto e viceversa. Io, purtroppo, non so come fare perché ho chiamato stamattina alla Cotrab e la Cotrab mi ha detto che è compito della Scoppio. La Scoppio dice che è compito della provincia. Non riesci a capire a chi rivolgerti? Il problema è questo, consigliere, che purtroppo noi siamo disabili che vogliamo andare d'estate a mare oppure raggiungere questa località a Santo Spirito e non sappiamo come arrivare. Io sto facendo una lotta, infatti sto mobilizzando un po' di televisioni e ho mandato degli articoli anche da Bitonto e vorrei arrivare fuori alla gazzetta. Ho mandato anche un mio messaggio a Stice alla Notizia perché purtroppo noi l'abbiamo tenuto sulla Barinol però ci sono alcune linee che sono ancora all'oscuro di questo. Allora Luciano io ti prego innanzitutto di richiamare in redazione più tardi così magari ci lasci anche il tuo numero di telefono e ci manteniamo in contatto. Intanto i consiglieri qui accanto a me vi farete portavoce di questa richiesta. Certo, anche perché prendendo spunto da questo problema che sottolinea Luciano ci sono tante parti della città in cui ci sono delle barriere architettoniche e una città che ha la pretesa di essere una città inclusiva cioè una città che attira persone non si può permettere di non essere una città ospitale innanzitutto con i baresi che ci vivono. Spesso si sente parlare di città a misura di bambino ma se raggiungere l'obiettivo di una città a misura di bambino vuol dire raggiungere l'obiettivo di una città a misura di disabile una città a misura di anziani eccetera. Il tema delle barriere architettoniche secondo me è una cosa che andrebbe affrontato con maggior coraggio da parte di questa amministrazione comunale. Consigliere Ranieri, barriere architettoniche al quartiere Libertà Io concordo tantissimo con il collega Piero solo che ovviamente a queste dichiarazioni non dobbiamo frapporre dopo il mare cioè dobbiamo di fatto fare seguire tutte quelle opere finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche perché è giusto che la città venga vissuta in toto da tutti i cittadini non solo da quelli che non hanno problemi ma anche da chi ha dei problemi perché non ci deve essere nessuna difficoltà da parte, ribadisco, di nessuno.